Ritorna al centro dell'attenzione del dibattito politico, sociale ed istituzionale la decennale carenza di spazi e di aule che presso l'Istituto Scolastico Vincenzo Telese di Ischia costringe da sempre gli studenti isolani ad assurdi ed intollerabili turni pomeridiani che penalizzano i nostri figli, in quanto per questo sono impossibilitati a svolgere nelle ore pomeridiane attività sportive, culturali e ricreative. A lanciare il nuovo grido di dolore della popolazione scolastica del Telese è stata una richiesta di risoluzione definitiva di questa problematica sottoscritta dagli studenti ed inviata al sindaco di Ischia Enzo Ferrandino e a quello della città metropolitana Luigi De Magistris, come ci ha spiegato Ivan Zavota, rappresentante di istituto. Buonasera a tutti, buonasera a Gennaro, ti spiego in breve la situazione. Noi del Telese sono secoli che subiamo questa situazione dei doppi turni dovuti alla mancanza delle nostre aule ed ecco per questo giorni fa insieme a tutti i rappresentanti di istituto abbiamo deciso di scrivere una lettera aperta al sindaco di Ischia e al sindaco della città metropolitana di Napoli Luigi De Magistris dove chiedevamo e appunto dicevamo che non vediamo perché un istituto come il nostro che ormai è un fiore all'occhiello, è la nostra isola dato che ha fatto uscire parecchi chef stellati e quant'altro non vediamo perché debba essere bistrattata così e in merito al fatto che si sta parlando dell'acquisizione insomma della verticale e che quindi tutto il liceo possa essere unificato al polifunzionale, noi crediamo che alcune di quelle aule debbano aspettare a noi. Noi rappresentanti di istituto e noi come istituto siamo in piena sintonia con tutti gli altri istituti del Mattei, del liceo e tutti noi questa situazione la stiamo affrontando, ne stiamo discutendo ma questo non avviene da parte delle istituzioni, da parte della città metropolitana, questo perché? Perché è un'amministrazione lenta, vecchia, con uno stampo vecchio e infatti non ti nascondo Gennaro che insieme a Davide Laizza stiamo per lanciare un progetto perché noi giovani vogliamo essere anche al centro di quelle che sono le dinamiche sociali della nostra comunità, noi non veniamo inclusi in questo, non siamo per niente inclusi ed è il momento di farlo.